Porca miseria, è 25, sarà 35 centimetri lunga, ma questa è un'arma bianca ragazzi, questa non si può andare in giro con la zucchina di questa, ma se tu vai con questa zucchina ti arrestano sotto e dici ma che porti babbo, che cazzo ne so, che ne sono, me l'ha regalata Andrea questa, conoscete Angelo Zoppichello no? il genere, non so chi gli dà queste zucchine, che fertilizzante gli dà, ma fa paura, se tu vedi queste zucchine, oh ma queste fanno paura ragazzi, e tu guardate lo braccio mio, in proporzione, non lo so eh, guarda lo tricicolo mio, guarda lo tricicolo, ecco la zucchina, guarda un po',